Ecco, com'è nata la tua idea di restare a Faenza? Anche perché guardavo le tue statistiche, il tuo curriculum, è il primo anno, questi due anni consecutivi in una prima volta. No, diciamo che io a Faenza mi sono trovato benissimo. Inoltre c'è un bel progetto, una società solida e queste cose mi hanno spinto a rifirmare per Faenza. Quindi carichissimo per la prossima stagione? Carichissimo, sì. È vero che non l'ho mai fermato due volte, quello è vero, ma quando ci sono dei bei progetti dietro, comunque una società solida, è difficile dire di noi. Quindi con quali obiettivi ti ripresenti nella tua seconda stagione a Faenza? Obiettivi per quanto riguarda personali, quello di crescere sempre, sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda di squadra, io spero di ottenere i massimi risultati possibili, di raggiungere i play-off e poi giocarci ogni partita fino all'ultimo. Non so se volviare per minuto all'ultimo. Grazie.